Musica Buonasera, buon sabato e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Etigi Marche. Dunque in primo piano parliamo dell'alluvione dello scorso 15 settembre. Si scava sotto il ponte del Brugnetto di Trecastelli, nella Valmisa. I cani molecolari delle unità cinofile della Guardia di Finanza fiutano delle tracce. Giorno 44 di ricerche di Brunella, Chiù ancora dispersa dopo l'alluvione. Il servizio di Andrea Fiano. Vediamo. Si scava sotto il ponte di Brugnetto di Trecastelli. I cani molecolari fiutano tracce. Giorno 44 di ricerca di Brunella, Chiù ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre. La donna di 56 anni, portata via dalla Fure del Nevola assieme alla figlia Noemi, trovata senza vita a diversi chilometri di distanza dalla loro casa, incontra da Coste a Barbara. L'altro figlio, Simone Bartolucci, è invece miracolosamente sopravvissuto e aspetta ora di restituire la pace a mamma Brunella. Sulle sue tracce ci sono Eta, Wendy, Scar, Taco, Indy, Ba, i cani delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Abbiamo avuto un interesse l'altra sera, proprio sotto questo ponte, dove il cane stava cercando liberamente. Quindi i nostri cani lavorano senza guinzaglio, liberi. Abbiamo avuto un grosso interesse sotto questo ponte, che prima era una catasta unica di detriti riportati dal fiume. Abbiamo deciso di fare una seconda conferma ieri mattina, con tutti i cani che avevamo disponibili. I cani ci hanno confermato, con la segnalazione, con l'abbaio, quindi una segnalazione per noi importante, un punto in aria all'interno di questo ponte. Ad oggi purtroppo non abbiamo trovato nessun oggetto, nessun target che poteva darci questa segnalazione del cane. Quindi stiamo continuando oggi ad allargare la zona intorno, l'imitrofa, al ponte, sia da una parte che dall'altra parte del ponte, per cercare di non lasciare nulla al caso. Sotto il ponte di Brugnetto la possibile svolta nelle ricerche, ma non solo. Sicuramente il lasso di tempo è molto importante. Noi stiamo andando a cercare anche scientificamente quali sono i periodi che purtroppo un corpo senza vita subisce a livello di processo. Sta diventando molto difficile perché il fiume, il corso del fiume è molto lungo. Quindi abbiamo tanti chilometri dall'abitazione fino al mare. Le ipotesi di direzione sono infinite perché è difficile ricostruire un'onda, parliamo proprio di un'onda improvvisa come questa. L'altro punto possibile sono questa creazione di questi raghetti che si sono creati con quest'onda dove purtroppo a pochi metri era stato trovato il corpo del piccolo Mattia. E quindi le operazioni ovviamente proseguono. Ora per quanto riguarda la cronaca invece un'altra notizia. Alla guida della sua auto è rimasto coinvolto in un incidente stradale, non ha prestato soccorso al motociclista, è rimasto ferito. Il presunto responsabile, un automobilista di 47 anni di Ancona, è stato rintracciato e denunciato dalla polizia grazie alle indicazioni di un testimone che lo ha seguito. L'incidente tra l'auto e la moto è avvenuto sul raccordo stradale Perugia A1 nei pressi dello svincolo di Madonna Alta. Il motociclista, un uomo di 62 anni della provincia di Siena, è rimasto ferito lievemente ed è stato portato al pronto soccorso. Al termine delle indagini invece l'automobilista è stato denunciato per fuga a seguito di incidente stradale. Per tali violazioni, perché c'era anche l'aggravante di essere fuggito in presenza di feriti e quindi per omissione di soccorso all'uomo, sarà applicata anche la sospensione della patente di guida da 18 mesi a 5 anni. Ed ora parliamo di lavoro, perché prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori Whirlpool. Sindacati e Regione tornano a chiedere un nuovo incontro al Mise, il servizio di Giulia Boschi. Vediamo. Continuare il blocco degli straordinari e lo stato di agitazione, senza però proclamare nessun pacchetto di ore di sciopero. Prosegue la mobilitazione dei lavoratori Whirlpool il 28 ottobre. La decisione è arrivata dal coordinamento nazionale delle organizzazioni sindacali. La richiesta che continua ad arrivare dai sindacati è sempre la stessa, quella di un nuovo tavolo al Mise in cui discutere del futuro della multinazionale e della possibile cessione degli stabilimenti, tra cui rientrerebbero anche quelli di Comunanza e Fabriano. Nelle Marche sono circa 1.500 i lavoratori interessati. La stessa richiesta è stata avanzata anche dall'assessore al lavoro della Regione Marche, Stefano Guzzi, che ha scritto al neoministro dello sviluppo economico Adolfo Urso per fissare il nuovo incontro dopo quello sfumato dello scorso 28 settembre, a cui la multinazionale non si presentò. Ho partecipato ad un'iniziativa che gli stessi lavoratori hanno messo in campo ultimamente per mostrargli l'attenzione e la solidarietà della Regione verso le loro istanze. Ad oggi mi si dice che ci sono dei compratori che si sono palesati sotto questo punto di vista, non sappiamo bene chi sono o a quali gruppi sono legati, però indipendentemente se si venderà o non si venderà da parte dell'attuale multinazionale, quello sul quale noi dobbiamo giocare d'anticipo è capire se c'è qualche iniziativa che possa danneggiare la permanenza di Whirlpool a Comunanza e a Fabriano. Io voglio tanto pensare di no, sono molto fiducioso, io voglio pensare e sperare che siano solo preoccupazioni che presto saranno chiarite e che ci sarà una permanenza in Europa, in Italia e nelle Marche delle attività legate a questa multinazionale. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Ascoli Piceno hanno arrestato un ventenne ascolano trovato in possesso, pensate, di quasi 14 kg di hashish, droga destinata prevalentemente al consumo locale e sulla costa di San Benedetto del Tronto. I poliziotti a seguito di indagini mirate sono riusciti a scoprire il luogo dove veniva custodito lo stupefacente individuato in un garage di un'abitazione alla periferia di Ascoli Piceno. Il quantitativo di droga davvero ingente, 14 kg di hashish, avrebbe fruttato al mercato circa 100.000 euro. Il giovane è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto mentre è stato denunciato a piede libero un altro giovane, un 26enne del posto. Domani, 30 ottobre, il sesto anniversario della scossa dei record che ha cambiato per sempre il volto dell'Appennino centrale. Il terremoto da 6,5, un bilancio con più ombre che luci per i sindaci del cosiddetto cratere. 30 ottobre, domenica come sei anni fa, quando la scossa più forte di sempre da 6,5 ha cambiato per sempre il volto dell'Italia centrale, quella più autentica aggrappata all'Appennino, dei borghi e delle zone interne. Sei anni tra passi, arrancanti, problemi e una ricostruzione in parte avviata ma in alcune zone quelle più devastate, ancora solo sognata. bilanci con più ombre che luci per i sindaci del post-sisma del 2016. Stiamo andando avanti con molta lentezza, le opere pubbliche hanno tempi biblici e perciò noi dobbiamo accelerare per poter ricostruire quelli che sono gli edifici pubblici perché altrimenti non diamo una risposta ai cittadini. Anche i privati stanno andando ma stanno andando avanti con molta lentezza. È dura perché manca anche il personale nei centri che devono sbrigare le pratiche quindi sono in continua ricerca e purtroppo il tempo passa e le persone invecchiano e molti non rivedranno più le loro case. Il bilancio non posso dire che sono contento dei 6 anni. Perché? Perché la ricostruzione nonostante i nostri compiti li abbiamo fatti in maniera solerte. Abbiamo approvato tutto quello che era approvabile anche durante il periodo del Covid a distanza di 6 anni immaginavamo che ci fosse una ricostruzione che era partita. Per una serie di ragioni, è inutile che andiamo a cercare le ragioni, dobbiamo cercare di andare avanti. E siamo fortemente preoccupati, a meno parlo per realtà montane come le nostre ma penso di dire di Accumul, di Acquata, noi, Ussita, che sono fortemente decentrate, che sono vera montagna. ebbene le nostre abitazioni sono tutte abitazioni di carattere fiscale, è noto a tutti quindi sono tutte seconde case che erano dei nostri nonni, dei nostri genitori io parlo come prima generazione e un distacco dal territorio di 6 anni non fa altro che peggiorare il rapporto. C'è da fare tanto, non è che le cose sono tante specialmente nei paesi abbastanza colpiti io parlo di Caldarola però logico non ci dobbiamo mai scoraggiare, dobbiamo sempre andare avanti perché dobbiamo riportare quello che erano le bellezze del nostro paese e del nostro territorio come erano prima. Dobbiamo, dico sempre, che dobbiamo ricostruire, senz'altro però dobbiamo anche ripartire dagli animi delle persone perché oramai la gente vede che la ricostruzione non è così veloce come ci si pensava all'inizio poi adesso ci sono altri problemi venuti fuori dal post-sisma e siamo in un momento difficile. Ed ora verso Halloween grande protagonista delle decorazioni ma anche a tavola la zucca da intagliare e da gustare siamo stati al mercato di Campagna Amica della Coldiretti ad Ancona vediamo Possono avere espressioni buffe o terrificanti ma sono tutte buone le zucche se poi finiscono a tavola è l'ortaggio grande protagonista in vista di Halloween e la Coldiretti al mercato di Campagna Amica in via Martiri della Resistenza ad Ancona come in diversi altri appuntamenti in giro per la regione ha coinvolto i più piccoli nelle operazioni di intaglio Abbiamo fatto questa uscita per festeggiare Halloween e hanno visto come si intaglia una zucca è comunque un'esperienza quando ci sono delle cose che vengono proposte noi cerchiamo di coglierle Quella da trasformare in lanterna è solo una delle innumerevoli varietà che si prestano per varie ricette dalle vellutate ai primi piatti come risotti oppure in padello al forno come le patate Per esempio questa è una tra le più usate diciamo in cucina si chiama la moscata molto adatta per fare zuppe Questa è la Hokkaido questa è la butternut le caratteristiche diciamo che differenziano questa da questa è in qualche modo l'umidità di acqua contenuta nella polpa quindi è importante anche imparare ad usarle questa è molto adatta per fare zucche, vellutate eccetera queste, chiedo scusa invece che hanno una quantità inferiore di acqua contenuta nella polpa sono più adatte per fare, che ne so i famosi ravioli di zucca quelli che si fanno a Ferrara comunque gli gnocchi Parente della zucca in campagna in questo momento è il cavolo e anche questo può diventare più simpatico per occhi e palato dei bambini Entriamo dentro l'era proprio del cavolo quindi è un periodo del cavolo in tanti colori ci sono i cavoli viola ci sono i cavoli bianchi e quelli verdi però si possono fare anche delle zuppe con i cavoli si possono fare delle vellutate quindi ci vengono anche delle vellutate rosa, viola che possono attirare tantissimo sia l'occhio che il gusto per i bambini Dunque ora per gli appuntamenti l'ex CT della nazionale maschile di volley Giulio Velasco protagonista assoluto ieri sera, venerdì al Palabadiali di Falconara Marittima ci racconta tutto Giacomo Giampieri Vediamo Nel tempio dello sport falconarese il Palabadiali bagno di folla con oltre mille persone per Giulio Velasco pluridecorato allenatore di volley che ha saputo portare ai vertici mondiali la nazionale italiana di pallavolo una carriera incredibile per un uomo ritenuto vero divulgatore sportivo capace di creare mentalità vincente grazie a doti comunicative e relazionali fuori dal comune e competenze manageriali e tecniche acquisite sul campo proprio dalle marche dopo le prime esperienze in Argentina è iniziato il suo percorso Io innanzitutto voglio dire che per me è un'emozione entrare in questo palazzetto perché nel lontano 1983 io sono arrivato dall'Argentina a Iesi spero che ci siano molti Iesini sono arrivato ad una società in cui c'erano molti ragazzi di Falconara che avevano giocato a Falconara e io venivo a vedere le partite con loro per farli vedere i giocatori di primo livello un tuffo nel passato e nei ricordi per Velasco che in apertura ha citato tanti amici come Marco Paolini tecnico della gloriosa pallavolo Falconara presente al Palace accolto da un lungo applauso Sandro Casoni altro personaggio che ha fatto la storia del volley italiano e compianto presidente della pallavolo Iesi una realtà dove Beppe Cormio oggi alla Lube muoveva i primi passi da direttore tecnico un'ora e mezzo di monologo nell'ambito della serata promossa dal gruppo Amici per lo Sport col sostegno dell'Università Politecnica delle Marche Sì, è veramente bello incontrare Julio Velasco che è veramente un simbolo anche a livello personale insomma, mi ricordo quando ero ragazzo che lo vedeva quindi ha trascinato tante persone e ha dato dei segnali positivi Una grande soddisfazione per tutti i componenti del gruppo Amici per lo Sport perché hanno visto veramente da una cosa che non ci si credeva non è possibile non può venire Velasco è venuto ha accettato è venuto con il cuore che è veramente lo sport insegna Dunque, questo era il nostro ultimo servizio io mi fermo qui vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.etvmarche.it Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi ancora buon weekend Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti